la settimana scorsa è stata una partita che alla fine potevamo pure pareggiare però loro audace grandissima squadra pure oggi però oggi siamo stati in campo più concentrati che contro l'audace vinciamo 2 a 0 poi ci siamo rilassati un po come al solito però abbiamo sempre avuto il comando della partita quello che ci stiamo lavorando purtroppo ancora dopo quattro quarta partita ogni tanto succede ancora che diciamo che ci addormentiamo durante la partita però diciamo viviamo giornata per giornata